Ciao ragazzi Nuovo video sul canale Vabbè, la Giulia mi dice Vabbè, è il video dei iscritti Con questo mod Questa qua è una mod d'orro Che mi l'ha consigliato il mio rugino Mi ha detto quello che gli piacciono fare una mod d'orro E... Allora, poi c'è la mia tuba E aspetta, guardiamo un attimo Non lo so Perché non posso dire? Non so perché non devo dire Non lo so E ora andiamo con le sue domande Vabbè Vabbè se mi diceva che mi sto messo Ehm... Le tanzare Ah, le tanzare Perché qua non viene anima? Uh, piatti Ciao Ciao C'è una tv C'è una radio C'è una tv C'è una tv C'è una tv C'è una tv Ragazzi no Ragazzi no Ragazzi sapete che cos'è l'infarto? Vieni C'è una tv 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 Come hai Perché stavo venendo usando le gossate C'è una tv C'è una tv Vieni! No, dobbiamo aprire. Vieni, spieghi domenica. Io questa porta non l'apre. È quella dell'ingresso. Oh no, non è quella. Siamo al piano di... Hai visto? No. Io sono da migliore, io sono io. Vieni! Io sono da migliore. No, secondo me qua c'è un passaggio segreto. È un bello. Ali vieni con me immediatamente. Anche io. E anch'io. Sì che ce l'ho. Ora mi è finito. C'è ora ce l'ho. Perché mi guiderà? Che ti ho scritto? You can't run. Che? Io ho due cosciotte. Ce l'ho due cuori. No. Perché sempre io vengo guida, Rado? C'è sempre quello che mi guida. Usare la chiave per aprire questa volta. Sì. Vai una tanta volta avanti te! Insieme. Ma cosa? Io sto andando sempre avanti! Sì. 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 aprire la porta no, prova la prima di te ma io sono un otto c'è un cavolo occhio andò è falto, invece io sbaglio io sono un tipo da mappe horror lui nemmeno ma siamo di qua dove? aspetta, sono lento, sono vecchio sono rotto perchè mi dite perchè mi dite gioca forte gioca forte sono ancora in vacanza siamo due alani in vacanza Ale Maria Donata oddio si ho cliccato click che ti ha fatto? ti darò tutti i cuori chi è? ah ma non lo stanno facendo tutti come domani ah vedi che c'è scritto allora tu sei ti levi tu sei tu sei vabbè tu mi dici però io non ti rispondo vabbè tu sei tu sei tu sei che c'è? sono vecchio eh no no dove le hai posato il martello? dove le hai posato il martello? scapisco no e martello in vacanza ma poi te l'ha tolto il martello e allora non servì quella ragazzi non sapevo però che cosa è questa cosa c'è c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo c'è un'altra cosa brutta altissimo si hai provato a aprire qua la porta ma la sua chiave è inutile aperta successo 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 c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo c'è questo no quella che questa no quella questa 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 no a me ha fatto il jumpscare perché ragazzi voi l'avete visto? io comunque ho trovato delle pinze a me ha fatto il jumpscare oh hai trovato delle pinze vieni con me vieni con me come come c'è questo raga aspetta aspetta ci vedevo c'è raga vieni qua come come guardiamo di tu le cassetti no ok allora andiamo con le pinze sicuramente si aprirà quella cosa c'è raga aspetta aspetta in questo momento qua eh si no che pizza aspetta ma dove sei? e che? ah raga fammi una cosa questa si divide là in due parti sennò poi il video diventa troppo lungo no no raga raga qui spero ora il video finisce qua ciao